Buongiorno, eccoci qua, continuiamo e stamattina finiamo il nostro libro La Bella e la Bestia. Eravamo arrivati a Bella, che è in paese, perché la bestia aveva consentito a liberarla. Quando Gaston si rese conto che Bella voleva proteggere la bestia, andò su tutte le furia. Dobbiamo uccidere quel mostro, altrimenti rapirà i nostri figli. Questo non è vero, gridò Bella disperata. Anche lei è pazza, aggiunse Gaston. Io vi dico, uccidiamo la bestia. Devo avvertire la bestia, è stata tutta colpa mia, pensò Bella, e balzò in gruppa a Filippo. Quando gli abitanti del villaggio arrivarono al castello, Gaston si mise subito alla ricerca della bestia, mentre gli assalitori invadevano i saloni. Ma con loro grande sorpresa furono accolti da oggetti animati. Gli oggetti animati difesero il castello con tutte le loro forze. Piatti, mestoli e pentole volavano sulle teste degli invasori. Anche i cassettoni e armoire, il simpatico armadio, si davano da fare. Che fracasso! Gaston nel frattempo era salito di corsa su per le scale fino a raggiungere gli spalti del castello, dove lo aspettava la bestia. Alzati, sei troppo buono e gentile per combattere, lo affrontò Gaston. Vattene, lo minacciò la bestia. Ma il cuore di Gaston era talmente pieno di odio che si avventò sulla bestia, la quale però non si difendeva affatto. All'improvviso Belle entrò a cavallo nel cortile sotto di loro. Era tornata nel vedere la ragazza la bestia sentì rinascere la speranza. Ora sì, valeva la pena di combattere. I due rivali cominciarono a lottare e salirono sul tetto. Belle restò per un momento a guardare la scena, senza sapere che cosa fare. «Sei innamorato di lei? Pensavi davvero che avrebbe voluto te quando poteva avere uno come me?» Mentre diceva queste parole, Gaston sfuterò il pugnale e colpì la bestia alle spalle. La bestia urlò di dolore e di rabbia e si girò di scatto, ma la malvagità di Gaston fu punita. Tentando di colpire ancora una volta la bestia, l'uomo perse l'equilibrio e precipitò nel vuoto. Sul terrazzo Belle era disperata. La bestia era stata ferita molto gravemente. «Non lasciarmi, io ti amo!» disse piangendo. E prima che la bestia chiudesse gli occhi per sempre, la rosa fatata perse l'ultimo petalo. In quel momento magiche luci cominciarono a scendere dal cielo. Una pioggia di scintille cade sul corpo della bestia che si sollevò nell'aria. Le sue zampe diventarono mani e l'enorme corpo sgraziato si mutò in una snella figura. Improvvisamente, davanti agli occhi sbalorditi di Belle, c'era un giovane e bellissimo principe. Nello stesso istante, tutti gli abitanti del castello furono liberati dall'incantesimo. Lumiere e Tokins, Mrs. Brick e anche il piccolo Chicco. Era stato una tazzina e adesso era un simpatico bambino. L'amore di Belle aveva rotto l'incantesimo. Di lì a poco i due giovani si unirono in matrimonio. Fu così che Belle sposò il principe, del quale si era innamorata, quando lui era ancora una bestia. E come sempre, tutti vissero felici e contenti. Come sempre, fatemi sapere se vi è piaciuta. Illustratemi, cioè fatemi un disegno della scena più bella. Io cercherò di farvi, di accludervi anche un video, una canzone, qualcosa del film. Ciao, mostri!